Prego? Sono Amedeo, mi manda Don Boschini. Lei ha assunto in qualità di autista factotum. Se ci sono cose da fare, tipo la spesa, bollette da pagare... Ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. E se un giorno scoprissi che la vita che hai non è quella che volevi, è quello che succede a Pio, un ragazzo dal carattere debole e impacciato, al quale il defunto papà salvatore, ricco costruttore, ha imposto le sue scelte. Eppure la sua è una vita agiata da fare invidia. avvocato e ora anche presidente dell'azienda del papà. Adesso un gruppo di imprenditori locali lo ha candidato a sindaco del paese. Pio è come anestetizzato in quella vita non sua. La scintilla la offre il parroco del paese, Don Boschini, guida spirituale del defunto padre di Pio, che gli chiede il favore di assumere come autista Amedeo, un ragazzo dal passato turbolento che gli cambierà la vita. Inizia di qui, come può uno scoglio, il nuovo film di Pio, Dantini e Amedeo Grieco, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 28 dicembre, con la regia già consolidata di Gennaro Nunziante. Il duo foggiano, dai numerosi successi teatrali e televisivi, arriverà allo showbill di Bari per un'anteprima mercoledì 27. E' nata da un'idea di Gennaro Nunziante e poi abbiamo partecipato noi alla sceneggiatura, colorando questo film e mettendoci... La verità è che non abbiamo niente da fare, che faccia facciamo il film e così è nata l'idea. Le idee nascono quando non si ha niente da fare, questo è, perché quando sei impegnato non hai idee. Certo, invece quando non c'è niente da fare comincia a pensare, che faccio oggi? E poi abbiamo girato questo film in Puglia, siamo contenti di averlo girato sul Gargano, da una parte molto importante non solo del nostro cuore, non solo della Puglia, ma anche dell'Italia. Dove devi vedere? Tutti insieme, vai!